Colleferro diventerà a breve uno dei poli occupazionali più grandi del sud della capitale. È di queste ore infatti la notizia che dopo il colosso americano Amazon, anche quello francese, Leroy Merlin, investirà sul territorio. La francese, Leroy Merlin, è tra i leader mondiali nel bricolage e nel giardinaggio. L'idea è proprio quella di aprire un megacentro di stoccaggio e di immagazzinamento nella zona industriale di Colleferro, e nelle scorse ore proprio il comune ha rilasciato il permesso a costruire. Dopo l'apertura dei cantieri dove verranno costruiti i magazzini Amazon, proprio a cavallo dei ponti di fine aprile un'altra bella notizia. Il permesso è stato rilasciato dal responsabile dell'ufficio Idilizia ed Urbanistica dopo la richiesta arrivata in comune il 18 marzo scorso. E la ditta che si occuperà di questi lavori è la Bylog con le Ferro SRL, che ha come amministratore unico l'imprenditore Eric Veron, lo stesso della mega operazione da oltre i 10 ettari di Amazon. Un nome che oramai nelle zone a sud di Roma inizia a suonare familiare. La zona scelta è rigaduta sull'otto B da oltre 5 ettari di terreno, proprio dietro la discarica di Colleferro nei pressi di via Paleanese. In pratica un'altra megastruttura che è a pieno regime, ossia quando inizieranno i lavori entro 12 mesi, darà lavoro ad oltre 500 persone che sommate alle circa 2000 di Amazon rappresentano una vera e propria svolta nel territorio che si imporrà in tutto il sud Italia.